Sul luogo del suo martirio a Tokyo, i giapponesi oggi ci hanno costruito un condominio, lasciando però stranamente o forse no, uno spazio visibile per le antiche fondamenta. Un tuffo nel passato, indietro di 300 anni agli inizi del 1700, il protagonista di questa storia è l'italiano Giovanni Battista Sidotti, partito come missionario per il Giappone ai tempi dello shogunato, il regime che temeva i gesuiti li perseguitò fino a ucciderli, pensando volessero sovvertire il potere. Anche Don Giovanni finì nel mirino, lui non era gesuita ma del clero regolare, un diocesano diremmo oggi, e fu accusato di voler convertire i guardiani che lo tenevano confinato. All'epoca i cristiani non era lasciata libertà di circolazione, ma erano sorvegliati e reclusi. Fu perciò lasciato morire di fame in quella che fu l'ultima prigione dei cristiani, ultima perché dopo di lui il regime shogun si blindò al mondo per un secolo e mezzo e i missionari torneranno solo a metà ottocento. Ebbene accade che, un paio d'anni fa, per costruire il famoso condominio furono ritrovate alcune tombe, all'interno resti umani oggettivari. Inizia uno studio meticoloso, il cui esito giunge appunto nella giornata di oggi. La prova più significativa, quella del DNA, secondo cui uno dei cadaveri non è giapponese, ma testualmente di ceppo italiano. Molte altre le prove non osse, ma documentali che corroborano la ragionevole certezza, secondo cui si tratterebbe del prete siciliano Giovanni Battista Sidotti, morto di stenti a 46 anni, proprio in quella zona. Significativi manoscritti ritrovati già due secoli fa, nei quali erano riportati anche i dialoghi fra il missionario italiano e un consigliere confuciano dello shogun, che restò affascinato dalle parole di Don Giovanni. Sul luogo adesso solo una stela, ricorda il sacrificio missionario, quell'anelito fortissimo per la terra del sol levante, lo stesso anelito che anche Papa Francesco, come più volte ha detto, avrebbe voluto seguire in gioventù e che spinse Don Giovanni fino a Tokyo. La chiesa cattolica giapponese ha inventariato tutto il materiale raccolto e non esclude l'apertura della causa di beatificazione in odium fidei. Le tombe ora non esistono più, ma tra le prove documentali più evidenti, l'immagine piccola come un'unghia che Don Giovanni indossava sempre con sé, la celeberrima Madonna del Dito di Carlo Dolci, e in quel dito che indica Cristo tutto il mistero di un sacerdote, spintosi fino ai confini del mondo per indicare l'unica via possibile.